Roberto Battaglia è stato rieletto presidente di Cia L'Aquila. Durante la sua relazione di apertura il presidente ha ripercorso le tappe più significative del mandato appena concluso, ricordando i valori che hanno orientato la sua presidenza all'interno dell'organizzazione, tracciando gli obiettivi prioritari del suo prossimo mandato. La Cia L'Aquila e Teramo lavora su un territorio di competenza vastissimo. Si tratta delle province di L'Aquila e Teramo in una percentuale che rappresenta il 66,6% dell'intero territorio della regione Abruzzo, dal mare alla montagna, con tutte le produzioni rappresentate. Tra gli impegni da portare avanti è quello di rafforzare i rapporti con università e istituti di ricerca per poter avviare progetti che puntano la vera sostenibilità economica e ambientale alla transizione ecologica e a quella digitale. Continueremo a affrontare il problema della gestione della pauna selvatica che è imperverso sul nostro territorio. Saremo direttamente impegnati anche ovviamente in un'altra tematica molto importante che è tutto quello che ruota attorno al mondo dei consorsi idrici. Ricordiamo che sul territorio di Teramo l'Aquila ne sono presenti quattro. La scommessa che ci accingiamo a perseguire, ossia di creare qualcosa di innovativo per le imprese agricole, quel qualcosa di innovativo lo troviamo racchiuso attorno a tutto quello che riguarda la vendita diretta che stiamo nel corso degli ultimi 4-5 anni organizzando. Tra i presenti anche l'assessore regionale con delega all'agricoltura Emanuele Imprudente il quale ha voluto ringraziare tutto il comparto che messo in ginocchio dal sisma, dalle nevicate, dal covid e per ultimo dal carro bollette ha sempre saputo rialzarsi ed oggi ancora una volta simbolo della nostra regione. E soprattutto con il PSR è bene ricordarlo che questa regione ha investito maggiormente e ha dato una priorità assoluta a questi territori come era opportuno e giusto che fosse e oggi saranno anche delle opportunità aggiuntive perché il cradere col PNRR avrà delle risorse disponibili dedicate a questi territori. L'Abruzzo è una regione centrale per Cia, ha sottolineato il direttore generale Claudia Merlino, ma va risolto il problema del reddito approfittando delle risorse del PNRR e della nuova politica agricola europea. Le aziende agricole hanno una bassa marginalità, ancora troppo bassa, ma hanno un grande valore aggiunto. Questo valore nella catena di produzione spesso si disperde e il PNRR attraverso tante misure molto specifiche, alcune molto trasversali, se riconosce l'agricoltore il vero ruolo che svolge, non soltanto economico, consentirà anche di risolvere il problema del reddito.